Il padre, il padre... Lorella Copanile! Lorella, Lorella! Viva, Lorella, 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 Lorella! Viva, Lorella, Lorella, viva, Lorella, viva, Lorella, viva, Lorella! Ecco, c'è, viva, Lorella, viva! Ha perso mezzo di capelli, lei! Signori, Lorella, avete vedere, Lorella, qua, mettili qua, qua, qua! Levo anch'io le stencette. Senti, hai allievi qui? Eh, c'è l'allieva qua. Non è cresciuta bene. È cresciuta benissimo, bravissima. E c'è anche Tommy. Noi la chiamiamo la piccola Cleopatra. Guardate, la piccola Cleopatra. Devo dire che io vi sento tutti un po' miei figli, sapete? Tutti i miei figli. Ho la mia figlia e poi... Senti, è un po' frangio biondo. Un po' frangio biondo. Senti, ma dite la verità. Questa foto qui è bella e mi piace tanto. Ha visto questa? Questa foto? Ma c'è uno sguardo da figo pazzesco. Per sì, molto senso. Ragazzi, posso dire? Io adesso mi faccio ricrescere i capelli così. Guarda che ce l'ho tutti. Mi ricrescono. Senti, dimmi la verità. Tu non mi avevi mai visto vestito così. Avevamo fatto delle prove, ma così. E già ridevamo. Ma quando si è aperto il linguone e io sono compasso da sotto e tu, io ho visto lo sguardo. Allora, aspetta. Ma io per un attimo ho pensato adesso rimane lì dietro e se non cammina avanti noi non andiamo avanti col numero uno. E lei mi faceva così. Ballando però. E man mano che tu ti avvicinavi io vedevo tutti questi occhi mistrati, il capello. Ma la faccia che c'avevi? Ha visto? Strana. Cioè era proprio entrato. Ma si veniva che ridevi però ad un certo punto si è scoppiato. Se uno si deve frangiare, si frangia. Anche perché sul Dolphin secondo me ora mi ha fatto un meme. Eh no, sì perché il Dolphin dobbiamo dire, il Dolphin scusa, una dica, chi è che lo vuole fare? Vieni qua. Guardate il Dolphin. Questo è il Dolphin. Eh vabbè. Io praticamente ho fatto il Dolphin con fiori che ogni conto mi andava contro. Per cui sembrava una lotta più che un balletto. Io ridevo tutto il patto, tutto il tempo ho riso perché eravamo scoordinati, cioè tu eri... Cioè eravamo... No, lei no. Fiore. Però su questo... Dai, dai, facciamolo, vai. Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo. Verso il blu Vabbè dai, lo cantiamo dal vivo. Aria pulita, voglia di vita Verso il blu Respirando noi Occiura, asciura Sono dove vuoi Florella, Florella, Vabbè dai, Florella, Allora, domani torni, no? Torni a Roma. Che c'hai amici domani? Ah sì, no, pensavo tornare qui. Eh? C'hai amici domani? No, ce l'ho dopodomani, domani è sabato. Cioè domani oggi. Io non so. Oggi è sabato. Io non so neanche su che pianeta siamo. Io tornerò fra boh otto ore, nove ore. Vuoi dire qualche marca? Ce l'hai addosso? No, 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 no. Non voglio creare ulteriori problemi. Ad Amadeus, no, invece io ti volevo dire Io ti ho portato una chicca. Tu lo sai o non lo sai? Cioè? Non sai niente. È un video? Allora. Quel video? È un video. Quel video, no, perché bisogna raccontare un po', no? Siccome volevamo fare uno scherzo ad Ama e io e Ama abbiamo fatto per parecchio tempo Gris insieme. Come a teatro. E insieme a noi c'era anche Mal. Dei Primitives. Dei Primitives. Furia Cavallo. Allora Mal praticamente e Ama erano quelli che avevano più tempo perché noi correvamo antia indietro, stavamo in scena e loro invece avevano tutti i loro tempi, no, morti. Quindi Mal ha ripreso praticamente tutto il backstage. Credo che abbia, non so, 8.000 ore. Hai trovato qualcosa di Amadeus particolare. E Amadeus, siccome aveva tanto tempo a disposizione, si divertiva a fare un po', capito? Era un po' goliardico. Il bulletto. E faceva un sacco di scherzi dietro le quinte. Non a me, devo dire, è sempre stato molto carino. Ma Giampiero Ingrassia gliene ha combinata di tutti i colori. Ma lo possiamo vedere questo video? Questo si può mandare in onda. Gli altri non potevano. Addirittura? Siamo a questi. No, vabbè, diciamo che sono passati anche, insomma, 25 anni, era più giovane. Lo possiamo vedere, ce l'hai? Lo vediamo a tutto schermo? Lo possiamo vedere, lo vediamo. Come lo intitoliamo, Amadeus? Ehm, vabbè. Daglielo tu un titolo, daglielo me. Dopo, dopo, guardiamo, guardiamo il video, prego, prego. Signore. No. La mutanda nera. E questa era l'unica cosa che si poteva mandare in onda. E ho detto tutto. Il video non si può chiamare altro che mutannazza. Mutannazza in siciliano. Mutannazza. Allora, guarda, me lo lasci questo? Ce lo lasci, vero? Eh? E certo che te lo lascio. Grazie, no, cosa? Oramai ce l'hai. Ma io me lo vedo tutti i giorni, tutti i giorni. Comunque, se tu parli con Mal, fra l'altro lo ringrazio perché è stato veramente delizioso, perché ha cercato nel suo archivio. Guarda, se tu parli con Mal, ti dà delle chicche. Perché lui, certo, non appena gli dice, avrei intenzione di rifare Sanremo, io prendo tutti i video, gli ho detto tutti online. Lo ricatto, ti ricatto, ti ricatto. Grazie Lorella, grazie. Grazie, grazie a voi. C'è stata? Lo vado a mangiare un piatto del pane. Evviva Lorella Cuccarini! Buon lavoro, eh, stasera. Dai, sarà fra 14-15 ore. Ci sono, ci sono, dai, dai. Guardate, il programma dura circa 5 ore. 5-5 ore, ce la farò, che cosa vuoi che sia, dai. Grazie a voi, Lorella Cuccarini! Ciao, 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 ciao!